bella a tutti ragazzi e benvenuti nel settantesimo episodio della nostra serie sulla master league con ispro e riusciano faccia due con l'inter signori allora intanto buona domenica e detto questo vi ringrazio per i like per commenti presenti e per il supporto signori vi ricordo sempre di iscrivervi al canale signori scorso video abbiamo preso una batosta contro il cesto no una batosta no ci siamo se sta tutta colpa nostra se non siamo riusciti a fare due golle praticamente perché abbiamo avuto un sacco di occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle sconfitte in dolore perché rimaniamo comunque a pari punti con la fiorentina ma siamo sotto forse per la differenza a reti signori perché vittoria ne abbiamo più noi però abbiamo anche più sconfitte quindi vabbè non ha importanza e a due punti è un punto dal Dortmund che rimanga comunque lì detto questo signori procediamo con il video con la partita di oggi che non ricordo contro chi giochiamo io sono un pirla perché non ho salvato signori bene bene non ho salvato signori io sto registrando in rapida successione con l'episodio di ieri non ho salvato bene con l'episodio che avete visto domenica e io non ho salvato bene quindi con la fiorentina dovremo combattere con le unghia e con i denti signori allora allora mette tornato ok babancite sulla fascia giusta ronaldo per caso è sempre rotto bene sentite ma meglio ronaldo rotto che un volata inutile dico io io direi voi che dite meglio ronaldo rotto che un volata inutile meglio ronaldo al 50 per cento che ok non mi correrà come mi corre di solito però è uno che con i piedi ci sa cosa deve fare signori sa cosa deve fare rischiamocelo rischiamoci ronaldo rischiamo il bello così valeri subito facciamoli capire chi è che comanda giallo per valeri subito e non si alza miatovic si è rotto dai così rosso pure signori croce rossa miatovic stagione finita deve voluto il corsetto uscire miatovic per coes ecco fu così che coes ci fece una quattro gol no 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 mamma mia mamma mia ho due minuti già è successo proprio coes signori proprio coes ha rischiato di disegnarci vai bamba no no porca miseria lì c'è ballo lì si ballotelli ma chi cazzo che me sono magnato io oggi ballotelli dai dai così c'è torricelli no ballotelli vai 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 bamba vai bamba vai bamba 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 super bamba super bamba 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 come se non ci fossero domani bamba ronaldo no bamba ma che cazzo ma stiamo scherzando stiamo scherzando di cosa ho appena visto che cosa cazzarolo appena visto ma cosa cazzarolo appena visto signori non ci posso che non ci posso credere non ci posso che vabbè che io ho cercato il tiro il tiro con con babagita quando non ci sta dai però anche cazzarola vogliono vendicarsi che gli ho rotto miatovic non mi interessa rona guardate ronaldo già è rotto dico sembra dovete rompere tutto dico parliamone attenzione io non mi ricordo come si sono le punizioni ma noi ci proviamo lo stesso babagita babagita no avrete dovuto va bene va bene va bene va bene va bene va bene che cosa non lo so però va bene io dico no che razza di palloni persi che razza di palloni persi evitiamo di fargli fare quello che vogliono evitiamo di fargli fare quello che vogliono fuori sta palla va bene parla per castello che non la prenderà mai di testa bene così però però attenzione la palla arriva babagita la palla arriva babagita 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 non lo sopporto questo fatto che torricelli deve essere più veloce di babagita mi da proprio fastidio nel 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 nello spirito proprio quanti no 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 miranda miranda per babagita e beh questa volta torricelli in ritardo questa volta torricelli in ritardo viene lanciato ronaldo che non è al 100 per cento e si vede si vede porca miseria però attenzione ronaldo no 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 c'è stato un attimo di silenzio signori ma no 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 grande babagita tini fisicamente grande bamba grande bamba Cioè, me lo devono, me lo devono rompere per forza le scatole, oh, io non ci posso credere Ci proviamo, ci proviamo, parte il traversone, parte il traversone Il traversone per Babangita che è alto un metro e una tic tac, però va bene, signori, l'importante è provarci, no? Però magari provarci giusti, oh, calma, 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 pallone, recupero, pallone, no, 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 no Bamba è tuo, bamba è tuo, bamba è tuo Camiseria, porca miseria Ah, che poi la Fiorentina, fermi tutti, signori, la Fiorentina è scontro scudetto, è scontro promozione questo, signori Perché la Fiorentina giustamente, bello, 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 Ronaldo, cerca il bamba, nella triangolazione, il bamba, riesce ad entrare in aria Bamba in gita Non ho guardato dove era messo Ronaldo, signori, non ho guardato dove era messo in aria, ma era marcato, era marcato Ronaldo, signori Bamba in gita riesce a girarsi, riesce a girarsi, cerca porlande, no, 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 no Che dovevo fare, signori, dovevo per forza, forse dovevo entrare meglio, no, no, fuori sta palla Dovevo, dovevo giocarmela meglio, dovevo provare con Bamba in gita Devo provare con Bamba in gita Tipo adesso, Bamba in gita, 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 uno, due No, ma che brutta palla, ma che brutta palla Comunque Bamba in gita è marcata uomo da Torricelli, incredibile, incredibile, ma vero No, 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 via sta palla Ronaldo riesce di testa, Ronaldo, no No, 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 eh vabbè dai però se lo facciamo girare così davanti la porta Porca miseria, porca miseria No, ma è tutto errori miei sono, signori Perché non mi posso mangiare, mangiare tutti quei gol Io non mi posso mangiare tutte quelle gol E poi avere la cosa di, 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 è normale che pia, ma che poi, che è, perché di sotto è No, vabbè dai, ma che Hanno trovato un 1-2, inutile, hanno trovato un 1-2, assurdo Assurdo hanno trovato un 1-2, io non ci posso credere Che razza di gol che abbia, è sempre il Bamba in gita a terra, sempre Me lo danno a buttare sempre a terra, non c'è niente da fare Odore il Bamba, il Bamba, il Bamba, no, ma Vabbè signori, come la partita col Dortmund, non Come la partita col Chelsea, signori, niente da fare Non, 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 non inquadriamo la porta, è incredibile Non inquadriamo la porta Non inquadriamo la porta, è incredibile Cioè abbiamo avuto, cioè, no, non Come, dobbiamo rimanere concentrati, signori Il 2-0 lo possiamo ancora recuperare Il 2-0 lo possiamo ancora recuperare Non ho avuto un Bamba in gita su questa fascia Lo possiamo ancora recuperare, signori Lo possiamo ancora recuperare Il fischio dell'arbitro annuncia all'inizio del secondo tempo Ottimo passaggio Nooo Scusa miseria Con che facilità arrivano davanti alla mia porta Incredibile, incredibile, Batistuta Se gli lasci lo spazio è Batistuta Quello te ne fa un altro Porca miseria Dai, dai Bamba in gita Dai Bamba in gita che non hai più Torricelli che ti rompe le scatole Dai Bamba, dai Bamba, dai Bamba, dai Bamba C'è un angolo, Ronaldo dove era messo? Eh, se passava Ronaldo era, no, marcato di più E dai così Dove così, for London Trova il 2-1 Dai cazzarola, dai cazzarola, signori Crediamoci, crediamoci È una partita troppo importante Troppo importante, signori Troppo importante questa partita Sfida promozione Ci riesce ad andare tu? No, non ci riesce ad andare lui Bravo No, era fuori, signori Era fuori sta palla Era fuori sta Siete dei maledetti venduti Siete vendutissimi Siete vendutissimi Ma il Bamba non lo sa Ma il Bamba non lo sa No, era una triangolazione Era una triangolazione Era una triangolazione Bellissima Bamba in gita Bamba in gita Bamba in gita C'è chi è 2-2 2-2 Corante così Corante così Lo recuperiamo, signori Porca miseria Porca miseria Quando l'ha tirata L'ha detto L'ha tirata fuori Visto gli ultimi tiri Che mi ha fatto Che mi ha fatto Bamba in gita Bravissimo 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 Bamba Bravissimo Bamba Bravissimo Bamba A chi però sta palla A chi A chi Io capisco Volei fare partire A bambangita Però così no Così no Così no Signori Così no Così no Così no Così no Cazzarola Meno male non gli ha dato rigore Gli abbiamo dato una spinta Che se la ricorderà Per tutta la partita No 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 Esci Evano Via via sta palla Via sta palla Evano Grazie l'infarto L'infarto Così mi viene L'infarto Così a me viene A me così viene L'infarto Ma chi Che c'è Bambangita Sulla fascia Io non lo capisco Perché deve Deve certe volte Fare le cose Di testa propria E farle sbagliate Le facesse giuste Allora Lo posso anche capire Ma le fa sbagliate Cercare un compagno In maniera facile No Sarebbe stato Troppo facile Troppo facile Sarebbe stato Cercare un compagno In maniera facile Dai Bamba Dai Bamba Party Dai Bamba Party No 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 Ma perché Lì nello stretto Perché Lì nello stretto Ivanov Grandissimo Giocala Giocala subito Giocala subito Per Matt Che lancia Bamba Che se ne va Non se ne va Da nessuna parte Bambangita Bello 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 L'anticipo Va bene Quanto meno Non gli regaliamo L'angolo Quanto meno Non gli regaliamo Più veloce Fisicamente Guardalo 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 No Grande Bamba Grande Bamba Grande Bamba 1-2 1-2 Bellissimo 1-2 Bellissimo Tu provalo No 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non possiamo sbagliare Sti tiri Non possiamo sbagliare Sti tiri Era riuscito L'1-2 L'1-2 Era riuscito Porca miseria Era riuscito L'1-2 L'1-2 Era riuscito Cazzarò di una misera Era riuscito L'1-2 L'1-2 Era riuscito No Ah Ai 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 Riesci a tenere la marcatura? Riesci a tenerlo? No, non riesci a tenerlo Baban Gita, baban Gita, fallo fuori Grandissimo bamba party Party bamba, party bamba, party bamba Parti Bamba Va bene così Guarda nuovamente Ronaldo Ronaldo No 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 Questo è l'emblema Di questo momento di campionato Signori Questo è l'emblema Di questo momento di campionato Al 44 Avremmo trovato il gol Del 3 a 2 Ci saremmo portati a casa La vittoria E invece no E invece no Minuti di recupero Bolatta Bolatta Niente E' finita signori Finisce qui Inter Fiorentina 2 a 2 Cosa si è mangiato Ronaldo Signori Cosa si è mangiato Ronaldo 16 tiri a 12 E il Dortmund vince Il Dortmund batte l'Ajax Se ne va Chelsea batte il Marsiglia Gol di Vorlande Ne va pangita E niente da fare signori E' andata così E' andata così E noi ce la teniamo E noi ce la teniamo Va bene Due punticini Saliamo a quota 16 Non ci facciamo nulla Con 16 punti Però va bene La classifica Recita Dortmund 35 Fiorentina 32 Inter 32 Chelsea 30 Attenzione perché il Chelsea Si è avvicinato Prepotentemente Di nuovo A due punticini Con due vittorie consecutive Effettivamente Si è avvicinato Si è avvicinato Va bene signori Detto questo Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i studenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao